Non li prendi più ragazzi, non li prendi più, sarà un tormentone che durerà fino alla fine del campionato ragazzi, non li prendi più, io qui lo dico e qui lo sottolineo, non li acchiappi più, questi sono andati prima e non li prendi più ragazzi, le vincono tutte No, magari non le vinceranno tutte, ma comunque lì davanti loro da lì non si schiodano ragazzi, perché oggi è stata una vittoria pesantissima, importantissima e pesantissima, magari non bellissima, però importantissima e pesante ragazzi Oggi vincendo il Napoli comunque si tiene la testa della classifica e addirittura guadagna sulle inseguitrici perché può guadagnare sull'Inter, può guadagnare sulla Juve, può addirittura guadagnare su tutte e due perché se dovessero pareggiare comunque guadagna due punti su tutte e due Poi ha guadagnato sul Milan per il momento, è vero il Milan ha una partita in meno, però comunque inizia a vedere lì a più 8, a più 8 ci vuole già il binocolo Ragazzi, la vittoria di oggi è stata veramente pesante e quello che mi impressiona di più è che questo Napoli qua è diventato il Napoli di Conte Oggi tu quando guardi il Napoli non ti aspetti la partita spettacolare, ti aspetti questa partita qua, una partita contiana dove tu vuoi la vittoria e cerchi con la calma e con l'attesa e con la cosa di aspettare il momento giusto di prendertela Ragazzi, è così, Conte è così, Conte spettacolo non ne dà, difficilmente dà spettacolo, lo spettacolo di Conte è questo, è riuscire a vincere le partite quando anche sono difficili, quando non è semplice, quando non riesce a fare spettacolo Lui te la fa vincere in questa maniera, ha una marcia in più questo allenatore, non c'è nulla da dire, è inutile, io non mi nascondo, l'ho sempre detto, l'avrei voluto al Milan perché questo veramente ti tira fuori proprio quello che non è Quello che non è lui te lo tira fuori e a me fa impazzire questa cosa qua Va bene, che dire, belli siete ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, buon tardi pomeriggio a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naic nella casa del pane balun Allora appena terminata la partita tra Napoli-Lecce, finita 1-0, un altro Corto Muso e vedrete ragazzi che da qua alla fine dell'anno di Corti Musi ce ne saranno tanti Perché ricordatevi, la vittoria di Corto Muso è vero che magari lo spettacolo viene meno perché vedi solo un gol e poi quando è un 1-0 è sempre tutta molto tattica Ma sono le vittorie che ti fanno godere di più perché tu sei, fino alla fine della partita, tu che tifi Napoli o comunque anche il tifoso dell'altra squadra Fino alla fine della partita è in tensione perché la puoi pareggiare per chi sta perdendo e la puoi portare a casa con sofferenza per chi sta vincendo Perciò sono quelle partite che ti tengono tesi come una corda di violine e sono le partite che piace a Conte Cioè Conte secondo me preferisce mille volte vincere queste partite 1-0 che quelle magari dove domini 2-3-0 Perché certo poi è sempre bello portarle a casa dopo un quarto d'ora per un allenatore che si rilassa Ma è proprio per questo perché siccome lui non vuole far mai rilassare nessuno perché lui di suo non è rilassato Perciò figuriamoci se vuole far rilassare i suoi Preferisce vincerle 1-0 di Corto Muso così tu fino alla fine sei lì sul pezzo, bello, tosto Ragazzi questa è una vittoria veramente pazzesca Ne parliamo insieme, ci dedichiamo 10 minuti insieme di compagnia Prima di cominciare come al solito vi invito ad iscrivervi al canale Ragazzi è gratuito, non costa nulla Iscrizione e attivazione della campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto Mettete un bel like al video ragazzi È gratuito anche quello e soprattutto fatevi un giro su TikTok Pane e Balloon su TikTok Faccio dei video carini, simpatici, comunque più corti per chi magari non ha molto tempo Fatevi un giro anche su TikTok, nella descrizione di questo video ci sono i link per accedervi C'è anche Instagram, Telegram, insomma dai sono un po' dappertutto Venitemi a trovare che ci facciamo quattro ghigne in milanese di Sena Milan Allora ragazzi partiamo, io c'ho qua davanti lo score Devo essere sincero non ho visto tutta la partita L'ho vista da metà del primo tempo scusate in poi perché sono arrivato a casa tardi Ho visto molto bene il secondo tempo E ragazzi è stata una partita incredibile Ora è vero che non è stata spettacolare È vero che, perché poi tanti, sento tanti col nasino arricciato Eh ma non è il Napoli di due anni fa Sì insomma è sempre meglio questo di quello dell'anno scorso Però quello di due anni fa esalta in altro Napoli questo Quello di due anni fa ragazzi quest'anno non lo vedrete mai Conte non è, non gioca così Poi sicuramente era bellissimo quello di due anni fa Ma Conte gioca in un'altra maniera perciò non lo vedrete mai E comunque nonostante tutto io ho qua davanti lo score Su una partita dove il Napoli fa 24 tiri Di cui 8 in porta Al 65% del possesso palla 493 passaggi contro il 272 del Lecce Calci d'angolo 16 a 5 Ragazzi i numeri sono tutti a favore del Napoli Perciò in una partita come questa Che giochi contro una squadra ben organizzata Chiusa, che arriva da imbarcate Perché arriva comunque da un 6 a 0 preso in casa Da dei risultati che non arrivano Perciò insomma è una squadra che ha voglia di riscattarsi Ha voglia di cercare di riprendersi Perciò non è semplice Chiusa molto bene, ben preparata È lì tutta accorta, pronta a ripartire Non era per nulla facile ragazzi Non è per nulla facile anche perché poi dopo Riuscire a far la partita in casa Perché tu poi quando giochi in casa Devi fare la partita Te lo chiedono anche i tuoi stessi tifosi In casa vuoi giocare la partita Però c'è sempre il rischio che si mette male E di prendere magari il contropiede La ripartenza, il gol Insomma poi dopo magari si incanava In una situazione un po' così e così Perciò ci vuole equilibrio E il Napoli in quell'equilibrio Che ha cercato di tenere Di non rischiare troppo E di cercare di trovare il pertugio giusto Al momento giusto E comunque ha fatto questi numeri qua Perciò poi Non è che è stata una partita moscia Cioè tutt'altro che moscia Purtroppo era una squadra che giocava E l'altra che pensava Giustamente dal loro punto di vista A difendersi e a portare a casa Il risultato Anche solo il pareggio Avrebbe fatto comodo Da un Lecce che arriva da una scompita Per 6-0 in casa contro la Fiorentina Perciò da quel punto di vista Io non è che tutte le partite Possono essere sempre stradominate Dall'inizio alla fine Anche queste sono partite Che ragazzi hanno la loro importanza Vincerle 1-0 Riuscire a trovare il pertugio giusto A sbloccarla E portarla a casa Non è una cosa semplice Ed era importantissimo Perché poi c'era anche la tensione Di sapere che domani gioca Il Dermi d'Italia Perciò tu con un risultato positivo Puoi allungare comunque Su una delle due squadre O su addirittura tutte e due L'altra che è lì vicino Comunque non ha giocato Perciò devi sfruttare il fatto Che gli metterai pressione Quando recupererà questa partita Perché tu questa l'hai già vinta Parlo del Milan Perciò insomma Tutte queste cose Nella testa di un giocatore Possono Insomma Farti barcollare Non è semplice portarla a casa Mentre il Napoli è riuscito Ragazzi il Napoli di Conte sarà così Il Napoli di Conte ti tiene Ti tiene sempre sulle spine Conte ti tiene sempre teso Come una corda di violino Tu devi giocare in quella maniera lì E se tu lo segui E fai quello che dice lui Ragazzi diventa Il Napoli diventa devastante Io me lo ricordo ragazzi Da milanista mi ricordo Il primo scudetto di Conte Ahimè l'ha vinto contro un Milan Che era nettamente Superiore In tutto e per tutto Con i giocatori che aveva Eppure Conte Con quella squadra lì Che poi Si è rivelata Una squadra vincente Perché poi ha vinto Nove scudetti consecutivi Ma poi ha migliorato Ma quella squadra lì Non era a livelli del 1000 Eppure è riuscito A tenere testa A portare a casa Un scudetto Attenzione Perché Conte È di un'altra categoria E mi sembra Che questo Napoli Gli stia dando Gli stia andando dietro Per filo E per segno Perché io vedo Proprio Napoli Napoli Che gioca proprio In maniera contiana In maniera contiana E veramente In tutto e per tutto Complimenti Complimenti Perché insomma Arriva il gol Di Di Lorenzo Poi il classico Quelle partite Che tutti si aspettano L'attaccante La giocata E poi ti arriva Il gollettino Del capitano Che già c'era andato Vicino nel primo tempo Poi è stato annullato Perciò insomma Sono quelle partite Veramente Che tu porti a casa E te la godi Te la godi Non sono spettacolari Ma te la godi Secondo me Ti fanno godere Molto di più E poi comunque Sono sempre tre punti Ragazzi Tre punti Sono i primi Nessuno può dire nulla Al netto di quello Che succederà domani Loro comunque Sono primi in classifica Ragazzi È vero Arriveranno Partite più difficili Però intanto Queste le hanno portate a casa E gli altri Le devono ancora giocare Perciò Insomma È un gran bel Napoli È un gran bel Napoli Dove veramente Sarà molto difficile Raggiungere Sarà sicuramente Molto molto difficile Dai Allora ragazzi Vi abbraccio di cuore A tutti quanti Vi auguro Una buona serata Ci vediamo più tardi Adesso scappo Perché tra un po' Inizia la partita Del Milan Ci siete cascati No non c'è la partita Del Milan Per chi non lo sapesse È stata rinviata Dai ragazzi Di solito è così E quando c'è la partita Alle 18 Devi fare veloce Perché poi c'è quella Perciò Da quel punto di vista Ci è andata bene Che noi siamo un po' Più tranquilli Dai ci vediamo stasera Un abbraccio di cuore Un buon sabato A tutti quanti Un bel like al video Fatevi un giro su TikTok E come dico sempre io Belli siete Grazie a tutti Grazie a tutti